soia jet questa femmina nata il 2 aprile nasce dal campionissimo adrian chip vincitore di un orsi mangelli la mamma e la extra winner 1 13 e 2 nasce da super gill e betty wire 1 14 e 2 che nasce da paine nipsa ma o per 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 Grazie a tutti